Secondo me abbiamo qualche problema per giocare a pallavolo, numero uno, due, tre, qualche volta la ricezione va bene, palleggia bene, attacca male, o diverso, capito? Questo è difficile giocare a pallavolo contro una squadra così che è un bravo muro e bella difesa, allora abbiamo provato, dobbiamo lavorare in più, questo sappiamo, spero, abbiamo anche più grinta, più aggressività dall'inizio della partita La tua prestazione? Vabbè, ho provato, ho provato sempre 100% il mio migliore, però ho sbagliato qualche pallone su momenti importanti e in mia battuta ho sbagliato un certo momento troppo è meglio cercare Terors, non ho fatto tantissime volte, secondo me abbiamo fatto più pressione di lui su ricezione, abbiamo cambiato forse il più, però vabbè, vediamo la prossima partita